Musica 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Lo ripeto, servono uomini per poterla controllare tutta. Reclutate l'intero esercito spagnolo, se necessario. Vostro in totale discrezione. Vasquez. Vasquez? De Ferrer parlava di lui a Cicenizza. Che sia l'uomo della compagnia. Devo avvisare Agatha e i contrabbandieri.